Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi vi porto una recensione di un libro che davvero penso sia troppo passato sotto traccia ma anche perché ci sono arrivata io ora, quindi il motivo principale è quello e ovviamente questa è una recensione, sarà una recensione spoiler free per la maggior parte vi racconterò il libro, cercherò di spiegarvi il libro perché l'ho appena finito e non potevo non parlarne e non cercare di convincere tutti a provare a leggerlo si tratta di Notes and Crosses di Mallory Blackman e è un libro che vi premetto esiste solo in inglese per ora spero che qualcuno prenda questa mia recensione e la trasformi in un'idea per pubblicarlo anche in Italia è appena uscita una serie per BBC che in realtà ha delle cose molto diverse soprattutto non prende in considerazione il primo libro, almeno da quello che mi è sembrato, dalle foto ma devo ancora vederla e la vedrò molto presto anche se ho paura di farmi spoiler sui prossimi libri ma comunque va bene, perché ve ne voglio parlare? Perché secondo me questo libro è molto importante per diversi motivi il primo perché è una distopia creata in maniera impeccabile, è davvero molto interessante perché è una distopia che parte da un semplicissimo presupposto cioè sovverte l'ordine che siamo abituati a conoscere delle cose e quindi con questo semplicissimo trucco, con questo semplicissimo espediente riesce a creare un mondo a parte allo stesso tempo trovo che sia un libro importante per discutere in maniera efficace di alcune tematiche legate alle questioni di razzismo e alle questioni di conflitto interraziale soprattutto all'interno della nostra società in una maniera che secondo me riesce a essere comprensibile, efficace anche a chi è molto restio insomma quindi direi che possiamo iniziare, spero seguirete, non ci saranno spoiler o comunque vi racconterò tutto in maniera molto libera in modo che così possiate prenderne le misure e anche parlarvi del perché io sono così esaltata per questo libro partiamo ovviamente dall'inizio insomma, io vado sempre con una scaletta in modo che così anche voi possiate capire se qualcosa che può fare per voi o non può fare per voi io spero vivamente di sì perché penso che sia un libro adatto veramente a chiunque e che cosa racconta fondamentalmente, quindi qual è la trama, lo stile eccetera eccetera partiamo da queste basi Notes and Crosses è la storia di Cullum e Seyfi Cullum è un bianco, ovvero un notes, che letteralmente significa tipo un nulla e invece Seyfi è una ragazza nera, quindi una cross in una Gran Bretagna alternativa potremmo dire i notes sono cittadini di secondo grado i cross invece sono la classe dominante e c'è anche proprio una divisione molto chiara e rigorosa tra i due gruppi e quindi già da subito è chiaro che vediamo una prospettiva ribaltata rispetto alla nostra società anzi, il gruppo dominante sono i neri e gli oppressi sono i bianchi la razza dominante ovvero i crosses, cioè le croci, detengono tutte le posizioni di potere il denaro e l'influenza e i notes vengono separati dai crosses già dall'infanzia, quindi partendo dalla scuola non possono accedere alle scuole, diciamo, di specializzazione più alte e vengono indicati come Blanker, che è il corrispettivo della n-word Callum e Seyfi però sono amici da sempre, fin da quando erano bambini perché la mamma di Callum lavorava come domestica presso i genitori di Seyfi e anche se i rapporti tra i notes e crosses vengono scoraggiati e sono ovviamente percepiti come problematici i nostri due protagonisti cercano tramite la loro amicizia e l'evoluzione di questa amicizia a combattere i pregiudizi e gli stereotipi che ogni fazione ha verso l'altra una cosa che salta all'occhio fin da subito, secondo me poi leggendo il libro è che in realtà il colore della pelle viene scritto pochissime volte e questo genera una serie, secondo me, di dinamiche differenti delle quali parlerò fra poco e in tutta la vicenda noi vediamo come Callum e Seyfi cercano in tutti i modi nonostante tutto ciò che gli succede, vediamo soprattutto episodi quotidiani e l'evolversi la loro crescita partiamo trovandoli molto piccoli Seyfi a 14 anni, Callumne a 16 sono molto legati l'uno all'altro e vediamo come andando avanti nel tempo si trovino sempre più di fronte a delle discriminazioni di tipo quotidiano e che possono ignorare sempre meno soprattutto Seyfi Callumne infatti riesce ad entrare come uno dei pochissimi primi studenti in una scuola superiore di crosses che fino a quel momento era una cosa vietatissima ma è stato effettivamente appena approvato dalla legge e si scontra con tutte le resistenze del caso e da lì inizieranno una serie di episodi, una serie di eventi che ci mostreranno grazie proprio al rapporto dei due e all'evoluzione di tutta la storia tra di loro e della loro amicizia come nel mondo sia tutto più complesso e come ci siano una serie di scontri abbastanza violenti anche e che non possono davvero ignorare i nostri protagonisti quindi insomma la storia è molto semplice in realtà perché seguiamo fondamentalmente la crescita di due ragazzi che si vogliono bene però come vi dicevo anche prima il fatto che una cosa che salta davvero all'occhio è che Mallory Blackman scrive pochissime volte il colore della pelle dei nostri protagonisti e questo secondo me ci porta davvero a crearci come lettori una serie di dinamiche inaspettate e permette probabilmente al lettore di applicarlo a contesti diversi il tipo di discriminazione che subiscono i notes fondamentalmente non sono solo le discriminazioni del colore della pelle perché tantissimi contesti potrebbero applicarli non so, ai gruppi separatisti alla questione israelo-palestinese alla questione irlandese insomma ci sono tanti modi in cui noi possiamo prendere questa storia e anche in qualche modo applicarla a diversi contesti perché ci permette di capire molto meglio le dinamiche discriminatorie però questo è un mio pensiero che è veramente molto estemporaneo e quindi penso che innanzitutto andiamo per gradi questa storia dopodiché evolve su problemi davvero molto complessi e anche difficili da affrontare si parla di terrorismo di attentati suicidi sesso e gravidanza in età adolescenziale ma anche di morte e di elaborazione del lutto potremmo da un lato definirlo un retelling di Romeo e Giulietta o comunque una riproposizione moderna di alcune dinamiche che ritroviamo in Shakespeare e soprattutto nell'opera di Romeo e Giulietta per me in qualche modo sì però non è l'unica cosa che troviamo è un modo molto furbo secondo me di rielaborare questo tipo di storia per portarla poi su questioni tematiche molto diverse non ci viene spiegato in realtà perché il colonialismo all'interno del mondo di Notes and Crosses è il contrario di quello che invece viviamo noi tutti i giorni cioè non sappiamo perché il colonialismo è dominante dalla parte dei neri rispetto ai bianchi siamo praticamente buttati in questo mondo e lo diamo per assunto perché noi effettivamente lo esploriamo attraverso gli occhi dei nostri due protagonisti che sono immersi in questo tipo di cultura quindi non hanno bisogno di darci grandi spiegoni sul cos'è successo noi raccogliamo le informazioni piano piano lungo la lettura e riusciamo ad aggiungere qualche tassello in più a ciò che conosciamo di questo mondo ma non sappiamo tutti i dettagli e probabilmente non sono neanche significativi il contesto infatti ci viene svelato piano piano in maniera mai troppo dettagliata ecco per interesse personale a me sarebbe piaciuto saperne un po' di più e capire un po' di più questo tipo di dinamiche ma alla fine non è questo il punto e anzi credo che non cambia assolutamente nulla il punto centrale invece è quello di mettere il lettore in fronte a una prospettiva che è la realtà che vivono milioni di persone sulla propria pelle nel loro quotidiano tutti i giorni da tutta la vita e che viene spesso sminuito, tacciuto, ridicolizzato e dove entrambe le fazioni, chiamiamole così, adottano dei meccanismi di reazione e di respingimento se fai parte della maggioranza, no? tu non vedi necessariamente tutte le microaggressioni quotidiane e tutte le discriminazioni perché tu non hai bisogno di vederle perché non riguardano te in prima persona ed è quello che secondo me l'autrice vuole esplorare proprio girando la prospettiva girando un po' i tavoli, no? perché in fondo ti senti chiamato in causa in quanto la minoranza discriminata sono i bianchi e vederla da questa prospettiva secondo me è molto funzionale, molto utile soprattutto per chi non vuole capire comunque io sto già divagando quindi andiamo in ordine in questa recensione o ci proviamo quantomeno lo stile della Black Man è molto incentrato sui dialoghi procede a passo molto sostenuto ed esplora le vite dei nostri due protagonisti vedendole attraverso i loro occhi quindi è un libro estremamente immersivo la tensione per tutto il libro è molto palpabile come lo sono effettivamente i conflitti che rappresenta tutti questi conflitti, questi contrasti li dipinge davvero in maniera molto minuziosa ma senza mai buttarli sul lettore con grandi spiegoni perché la Black Man riesce con degli esempi che rappresentano degli episodi molto quotidiani e tangibili a fare capire al lettore tutte queste cose tutte queste dinamiche penso che davvero lo show Don't Tell cioè il mostrare e non raccontare abbia raggiunto davvero una grandissima espressione in questo libro nulla ci viene raccontato nulla ci viene spiegato tutto lo vediamo si alternano dei capitoli dal punto di vista di Callum e altri dal punto di vista di Sefi perché così come lettori secondo me riusciamo molto meglio a focalizzarci su entrambe le prospettive perché i punti di vista dei nostri protagonisti non sono solo ciò che racconta la loro storia personale ma diventano anche i punti di vista di ciò che rappresentano dei gruppi ai quali appartengono ci troviamo davvero in un mondo capovolto e distorto ma sotto tanti aspetti sembra davvero molto vicino questo mondo alla prima decade degli anni 2000 infatti c'è internet che non tutti hanno ma alcuni hanno ed è qualcosa di potere infatti questo libro è uscito 20 anni fa quindi per alcuni aspetti è davvero molto vicino a questo tipo di momento storico e infatti per tanti altri aspetti invece ricorda un passato più remoto infatti ci troviamo ad assistere a un'epoca nella quale sono state appena aboliti delle leggi discriminatorie stile era Jim Crow americane ancora per dire si combatte per l'accesso alle scuole dei bianchi ricordando il primissimo periodo successivo alla fine della segregazione razziale durante la metà degli anni 60 in America infatti la segregazione è ufficialmente stata abolita anche se in realtà negli aspetti più pratici avviene in maniera molto graduale e soprattutto si trova a scontrarsi con una fortissima opposizione interna di suprematisti neri perché ovviamente sono gruppi molto estremisti e comunque dire suprematisti neri è una cosa inquietante va bene ci troviamo in un mondo dove esiste ancora la pena di morte che ovviamente però colpisce soprattutto i notes tutti questi eventi se ci pensiamo hanno veramente avuto un riscontro nella realtà penso che sia davvero come una lezione di storia davvero molto intelligente nelle vesti di un romanzo per giovani adulti e non lo so è stato un aspetto molto affascinante perché quando rivalti la prospettiva crei un senso di disagio e da persona bianca mi ha messo a disagio e penso che ci sia riuscita pieno ed è giusto che ci sentiamo a disagio e poi raga il finale cioè quel finale raga è da denuncia ti spezza in due io continuerò la serie sicuramente quel finale ok passo invece ai personaggi che sono uno dei miei aspetti preferiti del libro innanzitutto seguiamo soprattutto due punti di vista e seguiamo i nostri due personaggi principali cioè Callum e Sefi ma vengono coinvolti insieme a loro anche le rispettive famiglie mettendo in luce tutti i conflitti le problematiche che spesso diventano strumenti molto utili all'autrice per elaborare alcune riflessioni sulla propria condizione o sui difetti della società cioè voi sapete che io non sono una fan delle storie d'amore quando sono fini a se stessi e fondamentalmente questo libro racconta soprattutto una storia d'amore è la cosa principale del libro comunque è una storia incentrata sul legame dei nostri due protagonisti voi sapete che io non ho grande interesse a leggere storie di questo tipo ma io per questo ho proprio tifato però mi è piaciuta molto la ruvidità molto lucida con cui la Blackman affronta il tutto perché insomma attraverso le vicende personali di Callum e Sefi e attraverso l'avvicinamento e lo sviluppo del loro rapporto vediamo lo sviluppo dei personaggi e questo secondo me è trattato in maniera impeccabile nel romanzo è molto forte per quello perché non è solo riguardo a una storia d'amore pure semplice ma vediamo lo sviluppo dei loro due, delle loro due coscienze e insieme alle loro due storie vediamo la storia di tutta la società questo è bellissimo poi dei personaggi noi chiaramente conosciamo in primis Callum che è ovviamente il personaggio più forte di questo libro perché rappresenta la metà oppressa è arrabbiato e anche offeso dal tentativo troppo timido del governo dei Cross di integrare ovviamente i notes e vive costantemente una situazione conflittuale vuole l'uguaglianza ma fatica a trovare la strada giusta non vuole unirsi alla Liberation Milizia che in pratica è un gruppo sovversivo e terroristico perché sono brutali e violenti e pensano che davvero il fine giustifichi qualsiasi mezzo anche se la vittoria ovviamente significa lasciare una scia di devastazione e di morte unirsi a loro significherebbe anche accettare di rendersi violenti nei confronti di chiunque pure dei notes se serve e come far a conciliare anche tutta la sua realtà tutto quello che subisce, tutto quello che prova con i sentimenti che invece prova per Sefi quando lei appartiene al gruppo di persone che lo opprimono amare Sefi per lui significa effettivamente amare la fonte di tutto il suo dolore del suo odio, della sua rabbia perché significa in qualche modo accettare tutti i crosses significa accettare i loro atteggiamenti anche se Sefi è sempre stata diversa per Callum in qualche modo è proprio come se fosse una vera e propria sconfitta un fallimento anche perché ogni errore di Sefi si riflette anche perché ogni errore di Sefi è amplificato e si riflette su tutta l'opinione che lui ha dei crosses eppure Sefi non è come gli altri Sefi però sbaglia perché è inserita in un contesto culturale che le impedisce di essere perfettamente priva di qualsiasi giudizio nei confronti della minoranza non riesce ad essere del tutto priva di atteggiamenti razzisti eppure lo rispetta Sefi assiste e vede l'ingiustizia la comprende e la sua lotta interiore deriva proprio dal senso di vergogna che prova ad appartenere ai crosses e per aver oppresso come categoria tutta la minoranza cioè l'incapacità della sua gente di vedere i crimini che commettono e il suo desiderio di lottare per i diritti di Callum diventano un vero e proprio lavoro a tempo pieno incessantemente si pone come obiettivo quello di cambiare la prospettiva e la visione che hanno i cross nei confronti ovviamente dei notes ma viene giudicata ignorante viene giudicata pazza anzi sminuita continuamente infatti dai personaggi noi passiamo un po' alle tematiche perché in questo racconto voi avete capito che tematiche, personaggi e trama sono tutt'uno non possono in alcun modo separarsi infatti Malorie Blackman in questo modo ribalta tutta la prospettiva nella sua storia capovolge la discriminazione e la situazione del bianco e nero dove il bianco rappresenta la metà oppressa e dove il nero invece rappresenta la dominazione Blackman fa appello un po' alla nostra coscienza in qualche modo e alle nostre tendenze psicologiche per scardinare in qualche modo i falsi principi di cui siamo inconsapevolmente favorevoli la tendenza al colonialismo che è in situ dentro di noi infatti spesso è molto complesso capire tutti i significati e tutte le sfumature delle tematiche di giustizia e oppressione se assistiamo ad un uomo nero soggiogare un uomo bianco per questioni razziali è più insolito da digerire che se fosse il contrario si scontra con tutto ciò che conosciamo l'immagine di un uomo nero che soffre in quanto uomo nero è perfettamente accettata dalla nostra società perché in fondo è ciò che la storia ci ha sempre insegnato ovviamente la storia dei vincitori la nostra società è quasi normale concepire la sofferenza legata ai corpi neri in quanto si è naturalmente insediata dentro le nostre teste quest'idea che non possa non essere così cioè lo dico da persona che si è sempre considerata antirazzista che cerca il più possibile di decolonizzare alcuni meccanismi che avvengono all'interno della nostra testa e cerco di cambiare il mio modo di pensare il più possibile anche nelle sottigliezze perché spesso io mi ritrovo ad essere anche confusa nel capire quante sottigliezze ci sono quante sfumature e quanti pensieri anche minuscoli in qualche modo governano il nostro modo di pensare in quanti minuscoli tasselli di oppressione noi siamo immersi anche quando non pensiamo di essere razzisti e quindi è molto complesso da capire è molto difficile io sto cercando davvero il più possibile ripeto mi considero una persona antirazzista ma ascoltando tante esperienze di persone nere ci sono tante cose che secondo me nemmeno percepiamo come problematiche quindi davvero è complesso come percorso secondo me e ogni volta che Callum subisce un'aggressione fisica, verbale una discriminazione violenta o meno che sia ci mettiamo un pochino a ricordarci che non è nero ma che è un bianco ci impieghiamo sempre cioè non è immediato ci impieghiamo sempre qualche secondo poi è ovvio che il libro tratta anche tante tematiche più personali e non solo politiche anche se personalmente il personale è politico sempre in questo momento e riguarda questi temi più che mai però tratta anche tematiche riguardo all'autoconvinzione e le etichette che ci vengono affidate la necessità e l'impellente voglia di farsi sentire ma anche il pericolo che deriva dal parlare allo stesso tempo io devo dire che uno dei motivi per cui ho adorato di più questo libro è che è estremamente prezioso perché vede entrambi i lati della medaglia mostra soprattutto i risvolti negativi sia da un lato che dall'altro nessuno è mai totalmente nel giusto nessuno riesce a comprendere del tutto le dinamiche dell'altro compie una serie di errori che ovviamente la fazione opposta troverà inaccettabili ci sono dinamiche sottacciute per cui io ho dovuto davvero fare anche un po' di ricerca e ho scoperto essere in realtà molto più diffuse rispetto a quanto ne conosciamo oppure c'è stato interesse da parte ovviamente dei bianchi nel corso della storia è stato un po' l'atteggiamento da non ci interessa lasciateli ammazzare tra di loro ma ci sono tante dinamiche che invece la storia soprattutto afroamericana ha portato alla luce e ci sono tantissime dinamiche all'interno di questo libro che spesso sono state taciute del tutto perché sono verità scomode verità che mettono a disagio partendo anche da un presupposto che secondo me è innegabile bisogna chiarire chiaramente prima che insomma venga frainteso tutto questo discorso ma i comportamenti del singolo in un gruppo oppresso vengono presi, visti e additati dalla metà dominante come rappresentativi di tutto il gruppo e questo è chiaramente insostenibile perché nessuna persona è rappresentativa di un gruppo ma è semplicemente una persona singola però questo cosa porta? porta anche a una serie di fratture ad esempio nel libro assistiamo alla violenza del gruppo contro una ragazza dello stesso gruppo perché aveva una relazione con uno della fazione opposta perché le relazioni interraziali vengono punite duramente non solo dalla metà dominante ma anche dalla metà oppressa siamo al trauma della discriminazione che ti fa impazzire a tal punto da rinnegare la tua stessa pelle il tuo stesso colore la tua stessa esistenza alcune reazioni del gruppo oppresso sono da un lato secondo me comprensibili ma dall'altro diventano anche la scusa per il gruppo dominante per rendere ancora più dura e violenta la propria repressione so che ci sono state molte polemiche riguardo a questi aspetti cioè quelli dove i lati negativi vengono fatti vedere sia da un lato che dall'altro però secondo me non sono solo stereotipi alcune componenti del reazionare magari quelle delle frange più violente ed estremiste perché sono secondo me parte del discorso e non vanno negate esistono tuttora e sono esistite anche se ovviamente rappresentano solo una minoranza del gruppo anche se ovviamente rappresentano solo una minoranza del gruppo oppresso perché ogni persona adotta dei metodi e degli approcci molto diversi ovviamente quelli che ritiene più efficaci applicandoli al proprio contesto e questo non può diventare però l'alibi per l'oppressione ancora più dura da parte del gruppo dominante penso alla reazione che hanno quelli della Liberation Milizia che sono il gruppo terroristico presente all'interno del libro sono violenti reagiscono in maniera violenta e ingiustificabile spinti dall'esasperazione sicuramente e da un senso reazionario che chiaramente non puoi giustificare ma da un lato ti viene da pensare ma quale alternativa hanno? che tipo di opportunità esistono per loro in alternativa alla reazione violenta? quali sono modi più efficaci per rendersi visibili? sono dinamiche che in qualche modo secondo me sono facilmente comprensibili non dico giustificabili comprensibili che accadono tendenzialmente in tutti i gruppi oppressi e ribadisco non è che la mia visione di tutta questa cosa vuole giustificare gli atti violenti e terroristici però penso anche che da un lato ogni persona davvero reagisca alla violenza e reagisca all'oppressione in modi molto diversi e a me è piaciuto anche il fatto che Mallory Blacksmith non abbia voluto indorare la pillola non abbia voluto vedere solo qualcuno come estremamente buono e qualcuno come estremamente cattivo perché così la prospettiva diventa molto più idealistica rispetto a quella che è la nostra società dove all'interno di ogni gruppo ci sono persone buono o cattive e vedere solo il buono da una parte il cattivo dall'altro probabilmente rende meno efficace anche la comprensione da parte di chi opprime da parte di chi vuole schiacciare la minoranza secondo me questo modo di dipingere la complessità di tutta la società lo rende davvero molto efficace i diversi punti di vista e il venire in qualche modo a patti con l'incidente scatenante sono stati effettivamente per Callum e Sefi un'ottima occasione e un ottimo esempio di come hanno riconosciuto il proprio pregiudizio e soprattutto i pregiudizi che li circondano però non avevano negli strumenti nelle capacità probabilmente per parlarne e discuterne tra di loro anche in primis a causa magari della loro età e anche soprattutto a causa di come la loro relazione la loro amicizia venisse vista dall'esterno cioè per me è sembrato estremamente realistico anche per tutti questi aspetti cioè secondo me così il lettore è messo davvero di fronte a un contesto molto realistico e tangibile siamo messi di fronte a due gruppi distinti uno prima e l'altro quello oppresso reagisce in modi diversi ma il lettore non dimentica mai una nozione fondamentale cioè che il gruppo oppresso non è il gruppo dei cattivi cioè penso che in questo la Blackman sia stata molto chiara è stata molto capace di scavare a fondo di non essere né retorica né ipocrita e di aver voluto rappresentare la complessità di tutta questa questione per me cioè non so come dire magari qualcuno appartenente alla minoranza può vederla in maniera molto diversa da me che ripeto sono bianca e quindi faccio parte della cioè della maggioranza opprimente però non lo so per me è stato molto efficace vi parlo anche brevemente di cosa non mi ha convinto al 100% alcune dinamiche secondo me da metà del libro in poi diventano molto esasperate cioè sembra che tutto accada a Callum e Sefi fino ad arrivare ad un'escalation abbastanza assurda vero che sono simboli vero che la loro storia rappresenta quella dei loro gruppi di appartenenza sono estremizzati perché da un lato vogliono anche rappresentare una sorta di Romeo e Giulietta moderni in un contesto ovviamente però di conflitti razziali cioè fate conto che il contesto è che il padre di Sefi è un politico tra i più estremisti del suprematismo nero invece il padre di Callum partecipa alla liberation milizia tutto si estremizza sempre di più ovviamente andando avanti nella lettura penso che a un certo punto diciamo mancasse un po' di contesto all'escalation generale soprattutto ai drammi più potenti di questo libro e credo anche che forse non ce ne fosse bisogno di tutto di tutta questa escalation e si potessero in qualche modo adottare altri spedienti ed altri metodi per rappresentare ciò che voleva dire cioè non c'era bisogno di arrivare per forza al peggio di tutto cioè diciamo che a un certo punto sia la storia che la relazione tra Callum e Sefi procede in una maniera meno solida si evolve in una maniera meno solida rispetto all'inizio rispetto alla prima metà e anche rispetto alla fine e con una conseguenzialità un po' tirata ma comunque io devo dire che alla fine non ha impattato granché il mio giudizio sull'opera anche perché è molto estremizzata ma comunque secondo me funziona bene il messaggio arriva chiaro i personaggi sono dipinti molto bene quindi tanto di cappello vi leggo anche una frase per concludere questa recensione è una frase recuperata da un'intervista al Guardian di Malorie Blacksmith che trovo molto significativa dicendo mi è venuto in mente che la storia che avevo in mente sarebbe stata più stimolante da scrivere e speriamo anche da leggere se avessi giocato con le percezioni delle persone sulla società rappresentata nella storia volevo trasformare la società come la conosciamo nella nostra mente nella mia storia la razza e il razzismo sono questioni emotive che la maggior parte delle persone detesta discutere ma penso che dovrebbero essere discusse non importa quanto dolorose siano e trovo che questo sia un ottimo modo di spiegare anche la dinamica con cui è stata impostata la storia allora io trovo che davvero sia molto interessante questo tipo di prospettiva e che aiuti soprattutto noi privilegiati che pensiamo di essere del tutto antirazzisti ed o colonizzati mentalmente e non è così io me ne rendo conto ogni giorno e quindi insomma ci tenevo davvero a raccontarvi questa storia che secondo me è molto potente ripeto è un libro che esiste solo in inglese è una serie io andrò avanti nella serie così vi tengo aggiornati man mano e spero davvero che qualcuno abbia l'occasione di riproporle in Italia perché penso che sarebbe molto utile soprattutto in Italia dove di queste cose non si parla e non si può parlare perché noi siamo tutti bravi e buoni e insomma spero davvero che possa essere una lettura interessante per chi ci si vuole approcciare spero anche di avervi raccontato quali sono i punti che hanno più più di tutto colpito me e insomma direi che oggi siamo arrivati in fondo perché sarà stata una recensione abbastanza lunga immagino spero che vi sia piaciuto o che vi abbia colpito interessate in qualche modo fatemelo sapere giù nei commenti e insomma io direi che oggi siamo arrivati in fondo spero di avervi tenuto compagnia anche oggi e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao